Wi-Fi gratuito per i meno abbienti e accesso a internet senza la necessità di utilizzare una password. È l'iniziativa dell'ambulatorio popolare di Barletta che ha installato la rete in prossimità della sua sede con un amplificatore che permette di coprire interamente Piazza Plebiscito. Da oggi Piazza Plebiscito è ancora più aperta di quanto non lo sia stata fino ad oggi. Aperta ad internet per garantire alle persone per le quali internet rappresenta un costo contrariamente a quello che si può pensare nella normalità. Ci sono persone che risparmiano la connessione perché quella connessione è dedicata a mantenere in piedi i legami familiari e questo vale soprattutto per le persone migranti che sono qui per lavorare. Ed è simpatico un episodio proprio di una persona migrante che è rimasta meravigliata chiedendocelo ma come posso veramente collegarmi con la mia famiglia che non sta qui in Italia? Certo puoi farlo e poi l'ulteriore meraviglia quando ci è riuscito e ha salutato i figli e la moglie. Quindi bellissimo e siamo contenti di riuscire a realizzare questi obiettivi sociali. Uno sforzo economico importante grazie alle donazioni dei residenti e dei soci per garantire l'accesso gratuito ad internet a chi è in difficoltà. È importantissima, ci consente di ringraziare le tantissime persone, donne, uomini che ci aiutano soprattutto dal punto di vista economico con piccole donazioni oltre poi ai soci e le soci. Noi non prendiamo finanziamenti ma l'ambulatorio vive grazie all'euro, 5, 10 euro che ognuno di noi mette per sostenere le spese e anche le donazioni dei privati. Questo è uno dei modi con cui facciamo vedere alle persone che cosa facciamo con questi soldi e questo penso che sia uno dei modi migliori.